da alcune ore il mondo dello spettacolo italiano è in lutto dopo la tragica notizia della morte di anna kanakis nella serata di ieri martedì 21 novembre è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa dell'ex miss italia attrice scrittrice aveva solo 61 anni adesso in molti sgomenti si stanno chiedendo cosa abbia portato via una donna tanto bella elegante e brillante che nella sua lunga carriera ha lavorato in oltre 30 film alcuni dei quali internazionali e ha scritto tre apprezzati libri a provare a dare una risposta a questa domanda è stato il quotidiano romano il messaggero secondo la testata anna che viveva ormai da decenni nella capitale è stata portata via da una malattia che non le ha lasciato scampo in appena qualche mese la testata scrive infatti che la kanakis si è spenta a causa di una malattia che l'ha consumata in appena 7 mesi l'agenzia di stampa ancronos parla di un tumore del sangue sarebbe venuta a mancare domenica sera all'ospedale umberto primo della capitale nel frattempo in molti tra chi l'aveva conosciuta hanno voluto ricordarla con qualche parola via social hanno dato voce al proprio dolore anche patrizia mirigliani patron proprio di miss italia anna fu eletta reginetta di bellezza a soli 15 anni nel 1977 e serena grandi la prima ha pubblicato su instagram una foto di anna e ha scritto troppo giovane anna che dispiacere la seconda sempre via social ha invece commentato ciao anna vola e fai un bel viaggio serenamente tvb 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 tvb